Sophie Scholl aveva meno di 12 anni quando i nazisti presero il potere. È una ragazza come tante, Sophie, ultima figlia di una famiglia numerosa e unita. Educata al valore dell'indipendenza e dell'onestà di pensiero, in un primo tempo cresce seguendo il nazionalismo imperante. Partecipa ai gruppi in cui i ragazzi venivano irregimentati dal nazismo di prima maniera. Ama il suo paese e vuole farne parte attiva, questo anche andando contro l'idea del padre che da subito si è reso conto della pericolosità dell'ideologia hitleriana. C'è dunque un confronto vivace nella famiglia Scholl, poiché anche il fratello maggiore di Sophie, Hans, sosteneva apertamente il nuovo regime. Si tratta di un confronto e non di uno scontro, però, poiché questa è anche la storia di una famiglia che ha avuto il coraggio di contrapporre il proprio essere comunità morale ad una comunità, quella tedesca degli anni 30, che sembra essere asservita all'assenza di morale, una famiglia in cui ciascuno era libero da condizionamenti e poteva crescere con la massima autonomia di pensiero. Ma come è potuto accadere che degli elementi del genere siano saliti al potere nel nostro paese? I momenti di grande difficoltà, ci spiegò nostro padre, sarà il potere gente di tutte le risme. Pensate attraverso quante trasversie dovremmo passare. Prima la guerra, poi le difficoltà del dopoguerra, l'inflazione, una terribile povertà, e poi la disoccupazione. Quando anche la pura e semplice esistenza è minacciata e il futuro appare solo come una perete grigia e impenetrabile, si pressa facilmente ascolto a promesse allusinghe, senza chiedersi da chi provengano. Ma Hitler ha mantenuto la sua promessa di eliminare la disoccupazione. Nessuno lo nega, ma non chiedete come. Ha impresso un nuovo impulso all'industria bellica e si costruiscono delle caserme. Sapete come vanno a finire queste cose? Se avrebbe riuscito ad eliminare la disoccupazione, anche potenziando l'industria destinata a scopi pacifici, è facile riuscire in un regime di dittatura. Ma noi non siamo bestiame che si accontenti di un mangiatoio a piena. La sicurezza materiale non potrà mai bastare a renderci felici. Siamo uomini che hanno la loro libera opinione, una fede che è nostra. Un governo che intacca queste cose non ha più il minimo rispetto per gli uomini. Ma questa è la prima cosa che dobbiamo pretendere da esso. Questo dialogo si era svolto fra il babbo e noi nel corso di una lunga passeggiata primaverile. Ancora una volta avevamo discusso di tutti i problemi e dei dubbi che venivano dal profondo dei nostri cuori. Vorrei solo che procediate nella vita retti e liberi, anche se difficile. Aveva aggiunto nostro padre. Così, in maniera graduale e del tutto autonoma, ben presto in Sofì matura il dissenso. Non è un processo repentino, è piuttosto una lenta presa di coscienza, frutto di osservazioni, valutazioni e analisi della realtà circostante. Per prima cosa si allontana da quei gruppi di cui aveva fatto parte con tanto entusiasmo solo poco tempo prima. Le sue scelte di studi e professionali, per alcuni aspetti, sono scelte obbligate ed altronde non poteva essere diversamente nel regime nazista. Ma da un certo punto in poi, i tirocini e le esperienze preparatorie all'università, lei vive male. Gli ultimi anni di scuola erano diventati duri per Sofì. Ogni lezione era intresa di ideologia nazionalsocialista e lei assumeva un atteggiamento privo di partecipazione. Fu avvertita dal direttore della scuola. Se non avesse cambiato atteggiamento non avrebbe ottenuto il diploma. Sofì però non cambiò atteggiamento e nel marzo del 1940 prese l'abitur a dispetto di tutto. Dopo il diploma, lo Stato chiedeva a tutte le diplomate di lavorare per la RAD per almeno sei mesi. Da Monaco, il fratello Hans cercò di ottenere un'esenzione per Sofì e un posto all'università, senza successo. Sofì entrò nell'istituto per l'infanzia Froben di Ulm, sperando di evitare l'impegno per il RAD, ma nel marzo del 1941 fosse indata a un castello fattiscente trasformato in un campo di lavoro per giovani donne. Erano 2000 campi come quello in Germania. Vi alloggiavano donne tra i 18 e i 25 anni. Le ragazze indossavano gli uniformi e avevano sessioni di addestramento ideologico condotte da insegnanti fanatiche. I pasti consistevano per lo più in patate bollite con tanto di buccia. Vivevamo come prigioniere, non solo il lavoro, ma anche le pause di piacere sono doveri. Qualche volta vorrei urlare, il mio nome è Sophie Scholl, non dimenticatelo. Successivamente venne inviata per altri sei mesi nei prezzi di Bloomberg, costretta dal programma di assistenza in guerra in un asilo ridosso di una fabbrica di munizioni. Come tutte le ragazze della sua età, anche Sophie è un amore, un fidanzato che il destino ha voluto essere ideologicamente, almeno all'inizio, posto a lei. Anche in questo caso, come era stata abituata dall'ambiente familiare, non scontro ma confronto. Certo, Sophie non è tipo da tenere taciute le sue idee e i suoi pensieri. Nello scambio di lettere tra lei e Franz, questo è il nome del ragazzo che era al fronte, leggiamo spesso non solo frasi e parole d'affetto verso l'amato, ma anche lucide analisi della situazione politica, poiché si propone di essere per lui la spina contro l'indifferenza, facendolo ragionare sull'assurdità della guerra. I concetti di partecipazione e di responsabilità erano radicati nel suo essere. L'eguaglianza delle raste umane, la pace come scopo della politica, erano invece concetti che traeva da autori banditi dal regime. Nel maggio 1942, Sophie si recò a Monaco, dal fratello, per studiare all'università. Il fratello Hans, nel frattempo, insieme all'amico Alex Schomrel, aveva deciso di impegnarsi in un'aperta posizione al regime nazista, senza coinvolgere, però, la sorella in cospirazione o pericoli. Lui e i suoi amici progettavano di scrivere, stampare e distribuire volantini a Monaco per informare un pubblico selezionato di studenti, professionisti e intellettuali del male che li circondava, profetizzando che Hitler avrebbe perso la guerra. La sera in cui Sophie arrivò a Monaco, Hans e i suoi amici festeggiarono il suo compleanno senza raccontarle niente. Ogni singolo, cosciente della responsabilità che gli incombe come membro della civiltà cristiana occidentale, deve difendersi più che può in quest'ora estrema. Deve opporsi al flagello dell'umanità, al fascismo e ad ogni sistema simile di stato assoluto. Fate resistenza passiva, resistenza, ovunque vi troviate. Impedite che quest'atea macchina di guerra continui a funzionare, prima che sia troppo tardi, prima che le ultime città siano ridotte, come Colonia, a un cumulo di macerie e prima che gli ultimi giovani tedeschi si siano dissanguati in qualche parte del mondo, per la hybris di uno che è al di sotto degli uomini. Non dimenticate che ogni popolo merita il governo che tollera. I volantini della Rosa Bianca iniziarono ad apparire a Monaco verso la metà di giugno del 1942. Ne uscirono quattro, uno dopo l'altro. Vennero spediti come stampe a tutta la cittadinanza. Alcune centinaia arrivarono anche alla Gestapo. Dopo alcune settimane di indagini, gli autori dell'iniziativa restavano ignoti. Nel 1942 l'università appariva perfettamente integrata nel sistema nazista. Le classi erano infestate da spie della successione degli studenti nazionalsocialisti, che prendevano nota di quel che si diceva in cerca di battute inopportune durante le lezioni che i professori tenevano con non poco disagio. Con quei quattro volantini, all'università cominciavano a circolare voci sulla comparsa di materiale antinazista. Leggere tali volantini senza avere l'autorizzazione della Gestapo era un reato. Perché il popolo tedesco è rimasto così inerte dinanzi a crimini così orrendi, crimini così estranei alla razza umana? Difficilmente qualcuno cerca di comprendere, è cosa accettata, come un fatto e scacciato dalla mente. Il popolo tedesco ricade nel suo profondo, stupido sonno che incoraggia questi criminali fascisti, dando loro la possibilità di compiere i propri crimini, che ovviamente mettono in atto. E' questo il segno che il popolo tedesco è stato brutalizzato nei suoi più intimi sentimenti umani? Che nessuna corda vibra in esso commuovendosi alla vista di simili azioni? Che è ormai affondato in una fatale assenza di coscienza dalla quale non verrà mai più risvegliato? Sembrerebbe così, e sarà certamente così, se i tedeschi non si risveglieranno da questo stato di letargia, se non protesteranno dovunque e ogni qual volta potranno farlo contro questa cricca di criminali, se non parteciperanno al dolore di queste centinaia di migliaia di vittime. Ogni uomo vuole essere escluso da questo tipo di colpa, ma ciascuno continua lungo questa via, nella più placida, più serena coscienza. Ma non potrà essere escluso perché è colpevole, 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 dal secondo volantino della Rosa Bianca. Tornati dalla Russia e rincontratisi a Monaco, i membri della Rosa Bianca sentivano che dovevano unirsi al movimento di resistenza nazionale. A Sofi fu ossegnata la responsabilità della cassa, distribuiva il denaro e cercava di tenere una sorta di contabilità. Nel giro di due mesi, dal novembre del 1942 agli inizi di gennaio del 1943, l'operazione della Rosa Bianca si era trasformata da azione isolata di alcuni studenti di Alissi in una rete in espansione che andava diffondendosi nella Germania sud-occidentale, fino alla Saarland e fino ad arrivare al nord, verso Hamburgo e soprattutto verso Berlino. Le copie dei volantini venivano stampate uno alla volta, notte dopo notte, con una macchina che doveva essere azionata a mano con una manovella. Per restare svegli e lavorare durante il giorno, prendevano degli eccitanti dalle cliniche militari dove lavoravano come medici. Sofi fece i suoiaggi nell'area di Augusta, Ulm e Stoccarda, dove spedì circa 800 volantini. Ogni essere umano ha il diritto di pretendere uno stato giusto e utile, uno stato che assicuri la libertà dell'individuo e, allo stesso modo, il bene della comunità. L'uomo è nato per seguire il proprio naturale obiettivo, la felicità terrena, vivendo ed agendo in piena libertà, nella comunità di vita e lavoro della nazione. Il nostro attuale stato è la dittatura del male. Noi vogliamo tentare di mostrare che ognuno ha la possibilità di contribuire al rovesciamento di questo sistema. Dobbiamo opporci al nazionalsocialismo su tutti i fronti lungo i quali è possibile attaccarlo. Ed ora, ogni convinto oppositore del nazionalsocialismo deve domandare a se stesso come può lottare contro lo stato attuale nel modo più efficace. Come può infliggere i colpi più duri. Tenta di convincere tutte le persone che conosci, incluse quelle delle classi meno elevate, dell'insensatezza di continuare, dell'inutilità di questa guerra, della nostra schiavitù economica, nelle mani del nazionalsocialismo, della distruzione di ogni valore morale e religioso, dell'urgenza della loro resistenza passiva. Il 18 febbraio a Monaco, poco dopo le 10 del mattino, Anso e Sofì lasciarono il loro appartamento a Schwabing e si incamminarono verso l'università, portando con sé una grossa valigia. Arrivati all'università, mentre le elezioni erano ancora in corso, cominciarono a mettere una grande quantità di volantini avanti alle porte delle aule, sui davanzali e sulle grandi scale che conducevano l'entrata principale. Distribuirono dai 700 ai 1800 volantini. Finito tutto, stavano per lasciare l'edificio quando si accorcero che erano rimasti dei volantini. Gli salirono le scale fino all'ultimo piano e dalla boia alla usta gettarono gli ultimi fogli. Nello stesso istante, le porte delle aule si spalancarono e gli studenti cominciarono a uscire. Scoperti, Hans e Sophie furono condotti all'ufficio del rettore Wurst. Non opposero resistenza. Arrivò Robert Moore, che comandava la squadra della Gestapo. Ordinò agli agenti di raccogliere tutti i volantini. Stavano perfettamente nella valigia vuota. Mordi dell'ordine di portare i due al quartier generale della Gestapo. Hans e Sophie, ammanettati e condotti al quartier generale, furono interrogati per 17 ore in stanze separate, così come prevedeva il piano del gruppo in caso di cattura. Entrambi sostennero di essere loro e soltanto loro i responsabili dell'azione della Rosa Bianca. Tutti quelli che ebbero occasione di vederli durante i giorni di carcere, gli altri prigionieri, il cappellano, i secondini e perfino i funzionari della Gestapo, rimasero fortemente colpiti dal coraggio e dalla serenità del loro atteggiamento. La calma e la tranquillità che i membri della Rosa Bianca trasmettevano contrastavano fortemente con la tensione febbrile che regnava nell'ufficio della Gestapo. Il giorno dell'udienza, gli imputati, Sophie, Hans e Christophe, sedevano eretti e silenziosi. Rispondevano con franchezza e distacco alle domande loro rivolte. Sophie, la quale per il resto parlo pochissimo, a un tratto disse «Sono in tante a pensare a quello che noi abbiamo detto e scritto, solo che non osano esprimerlo a parole». Il processo terminò con la condanna a morte di tutti e tre. I giovani vennero quindi trasferiti nel grande carcere di Monaco, Stadelheim, destinato alle esecuzioni capitali, situato vicino al cimitero opposto al margine della foresta di Perlach. I secondini, in seguito, raccontarono che tutto il carcere rimase impressionato dal coraggio con cui i tre affrontarono la morte, dal loro sguardo mite e determinato. Questo successo apparente è stato ottenuto al prezzo del più orribile spreco di vite umane, tanto che non può più essere definito un vantaggio. Per questo dobbiamo mettervi in guardia rispetto a qualsiasi ottimismo. Domando a te, che sei cristiano, lottando per la salvezza del tuo più grande tesoro, hai forse modo di esitare? Di indugiare in intrighi, in calcoli, in procrastinazioni e nella speranza che qualcun altro alza i bracci in tua difesa? Non ti ha forse Dio dato la forza e la volontà per combattere? Dobbiamo attaccare il male, dove esso è più forte, ed è più forte nel potere di Hitler. Ogni parola che proviene dalla bocca di Hitler è una menzogna, ma per l'amore verso le future generazioni dobbiamo dare un esempio di tale forza che per il futuro nessuno avrà la minima tentazione di ritentare simili azioni. Non dimentichiamo neppure i piccoli furfanti di questo regime, ricordiamo i loro nomi affinché nessuno ci sfuga. Non devono riuscire a trovare il modo, dopo aver preso parte a simili atrocità, di cambiare bandiera all'ultimo minuto come se nulla fosse accaduto. Noi non rimarremo in serenzio, noi siamo alla vostra cattiva coscienza. La rosa bianca non vi lascerà in pace dal quarto volantino. I fratelli Schultz erano accusati di alto tradimento e il processo venne fissato per il giorno seguente, lunedì 22 febbraio, al Palazzo di Giustizia di Monaco. Il giudice che presideva il processo sarebbe stato Roland Freisler. Lunedì 22, alle 7 del mattino, i detenuti furono prelevati alle celle. Quando Els, la compagna di celle di Sofì, tornò nella cella vuota, trovò sul letto per rifatto di Sofì un foglio di carta. Era l'atto di incriminazione e sul letto Sofì aveva scritto la parola libertà. L'aula del Palazzo di Giustizia era gremita di persone, tutti invitati, quasi tutti in uniforme. Non c'era nessun membro della famiglia, non erano stati informati ufficialmente né degli arresti né del processo. Il giudice Freisler apparve con una toga scarlatta, luccicante. Il processo iniziò alle 10. Freisler cominciò con la sua invettiva. Sofì cercò di contestarlo. Qualcuno doveva farlo. Ciò che abbiamo detto e scritto è quello che pensano molte persone. Solo non osano dirlo a voce alta. Furono condannati a morte e portati alla prigione di Stendel. In prigione si era sparsa la voce su come si erano comportati i giovani studenti nelle mani della Gestapo durante quel processo infame. Il personale del carcere li ammirava. Gli impiegati non erano membri dell'ASS o della Gestapo. Si consideravano normali funzionari statali che eseguivano compiti sgradevoli. Le guardie infransero alle regole. Fecero uscire i fratelli Scholl dalle loro celle e li portarono nella sala visite per incontrare i genitori. Sofì accettò i dolci che la madre aveva portato dicendo che aveva fame. E poi la ghigliottina. Sofì fu la prima. Camminò eretta attraverso il cortile scortata dalle guardie. Erano le 5 del pomeriggio. Notizie sulla rosa bianca raggiunsero anche il pubblico americano e i loro volantini furono ristampate a migliaia di copie e lanciate dagli aerei alleati sulle città tedesche. La piazza di fronte all'edificio principale dell'Ateneo ora è intitolata Hans e Sophie Scholl. Nel cortile dell'università c'è una rosa bianca intagliata nel marmo. Il busto di Sophie è entrato nel Valhalla, il tempio degli eroi tedeschi. È stato bandito un premio letterale annuale, il Geschwister Scholl, da assegnare a un libro che riveli un personaggio originale indipendente, promuove il coraggio morale intellettuale e stimoli la coscienza pubblica su temi attuali di grandi interesse. Grazie a tutti.